Siamo qui con Gianni Venichetti, questa mostra di icone animali. Giusto Gianni? Come ti è nata questa idea? Perché icone animali? Perché di solito le icone sono icone di santi, in questo caso ho pure una gallina santa che è rappresentata nella locandina della mostra, Eulalia. Eulalia è una gallina non convenzionale sicuramente perché se ne sta appartata dal resto del mondo.